La conferenza fa parte dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, le collaborazioni già sono in atto, ma il punto cruciale è quello che è contenuto nella direttiva del Presidente del Consiglio del 16 marzo, di cui forse voi non avete ancora notizia, e cioè il fatto che è stato portato a Palazzo Chigi il coordinamento politico della strategia di sviluppo sostenibile.